Ciao a tutti, oggi voglio mostrare agli appassionati di giochi di prestigio un semplice gioco che si può fare con un comunissimo mazzo di 52 carte, come questo. Allora, innanzitutto bisogna dividere il mazzetto in altri tre mazzetti più piccoli, in questo modo, più o meno delle stesse dimensioni. Dopodiché cosa si fa? Si prende uno dei tre mazzetti, lo si capovolge, si prende il secondo e lo si inserisce in mezzo al primo, in modo tale che si mescolino le carte facce contro facce e dorsi contro dorsi. Stessa cosa si fa con il restante mazzetto, quindi lo si prende, lo si apre e lo si inserisce nei primi due, in questa maniera, in maniera tale che si trovino sempre facce contro facce e dorsi contro dorsi, in questa maniera. Ovviamente se io spacco il mazzo in un punto qualsiasi, le carte si trovano ad essere sempre mescolate, in questa maniera, facce contro facce e dorsi contro dorsi. A questo punto cosa si fa? Si prende la prima carta del mazzo, in questo caso il nove di cuori, lo si capovolge e lo si mette in fondo al mazzetto, in questa maniera. Così è cinquantaduesima, basta un tocco e diventa trentesima, ventesima, decima, fino a ritornare prima. Il bello è che la carta, risalendo attraverso il mazzetto, ha fatto in modo che tutte le carte ritornassero nella loro posizione originale. Per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate pure un commento oppure iscrivetevi al canale e ci vediamo presto per un nuovo gioco di prestigio.